Buonasera da Municipio 15, noi siamo qui questa sera per informarvi di un problema che il Movimento 5 Stelle sta seguendo da qualche tempo. Si tratta di un problema che riguarda i bambini autistici, 100 bambini autistici provenienti da tutta Roma e che sono assistiti dall'associazione Ampet che opera senza fini di lucro. La magistratura ha disposto l'esproprio dell'area che ospita questi bambini, un'area che è abusiva e che deve essere assegnata a seguito di un bando a un'associazione sportiva che ne rivendica il possesso. L'esproprio comporterebbe l'interruzione delle cure, l'interruzione dell'attività con grave danno per questi bambini la cui patologia si basa molto sulla ripetitività e la conoscenza dei luoghi. Questa è una battaglia che il Movimento 5 Stelle stava portando avanti, ha presentato una mozione al Consiglio del Municipio 15 coinvolgendo tutto il Consiglio e tutta la Giunta nell'assunzione del problema. Quindi è per noi già una grande vittoria perché la politica finalmente scende a comprendere i problemi dei più deboli. Noi staremo con il fiato sul collo perché questa vicenda abbia un esito positivo e faremo molta attenzione a tutti i problemi che sono all'interno del Municipio. Proprio per questo noi vi invitiamo a partecipare ai nostri banchetti, a partecipare ai nostri tavoli di lavoro in modo da arrivare a delle scelte responsabili ma soprattutto condivise insieme con voi e questo è l'obiettivo del Movimento. Teresa Zotta, consigliere e portavoce per il Movimento 5 Stelle nel Movimento 5 Stelle per il Movimento 5 Stelle per il Movimento 5 Stelle. Grazie a tutti.